Evento storico per la città di Sassari, domani 5 settembre, si apre in Piazza d'Italia la stagione lirica 2020 del lente concerti in Marialisa de Carolis. Il concerto lirico sinfonico con il baritone Alberto Gazzale ritorna in città dopo quasi dieci anni e avrà luogo alle 21 nell'inedito scenario di Piazza d'Italia. Mai prima d'ora un evento lirico era stato ospitato nel salotto di Sassari, l'ultima stagione estiva si registra nel 1947 in Piazza d'Armi. Il concerto di domani propone i grandi classici del compositore di Bussetto con brani da Nabucco e Otello, da Lucia di Lammermurre di Donizetti ad Andrea Scenierre di Umberto Giordano. L'orchestra del lente concerti sarà diretta da Sergio Liva che vanta collaborazioni con i più grandi della musica lirica come Pavarotti. Il concerto in collaborazione con il comune di Sassari è ingresso gratuito, i posti sono andati esauriti in poche ore a testimonianza della grande attesa per un avvenimento storico che segna il ritorno della musica lirica in città. Con questo evento pubblico e gratuito nel cuore di Sassari, lente concerti e il comune vogliono simbolicamente celebrare la ripresa dell'attività in un gesto di rinascita e speranza per il futuro. La stagione lirica poi dà appuntamento nel consueto teatro comunale con il tabarro di Giacomo Puccini in programma il 25, 26 e 27 settembre.